Steph, dobbiamo iniziare in nascondino, dove sei? Mi sono già nascosto! Pensavo avessimo già iniziato, no? No? Aspetta, no, non ti vedo, dove sei finito? Mi sono nascosto, Ferre? Eccomi! Ciao! Come stai? Almeno eri a casa tua, nella spazzatura! Guardate come va piano! Ti sparo, eh, mi stai facendo perdere la fazzezza! Guardatela! Ti sparo, prendo la pistola e ti sp... Ferre! Finché non scendi? Ferre! Ferre! E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki! E io sono Steph, e questo è GKM GTA 5! E finalmente torniamo con un episodio del nascondino, anche qui su GTA! Questa volta siamo in una specie di discarica rimessa, non ho ben capito cos'è, ma è una location che ci è stata consigliata da un consolino su Instagram! Ad esempio, io ieri, pensando a dove potessimo fare il nascondino, ti sei ricordata? Mi sono ricordata di aver salvato l'immagine che lui ci aveva inviato! Sono andata a controllare, perché ha detto, andate qui e vedete che c'è un posto fighissimo! E ho fatto, oh mio Dio, è il nascondino della vita! Allora, potrebbe essere ancora migliore della fabbrica di falegnameria che avevamo fatto! Sì, no, è bellissimo! Quindi, davvero, davvero epica e merita di farci un video! Non vedevo l'ora di tornare su GTA con il nascondino e mi sono anche attrezzato! Come potete vedere, adesso, per quando ci sarà buio, avrò una torcia per scoprire Ferre Niki, che lei non ha, quindi Steph ha un piccolo vantaggio per oggi! Allora, chi inizia a nascondersi? Vai tu, dai, così inizia a far vedere il posto! Mi fa sempre iniziare! Mi metto, mi metto qui, beh, dai, così, vai vedere subito il posto a consigliere! Chiuda gli occhi, per favore! No, mi sono messa nell'angolo, all'ingresso c'è un angolo perfetto per fare uno, due, beh, nasconditi! Vi girate da una parte e ci sono nasconditi! Vi girate dall'altra e ce ne sono ancora! È davvero grande, quindi, cioè, ad esempio, poi c'è una parte tutta con container che ti sembra la fine, ma se invece gli scavaichi c'è un'altra parte ancora! Eh, vabbè, ma... Quindi è davvero... no, è infinito, è infinito, è infinito! Aspetta, cioè, possiamo andare anche oltre? Per ora io rimarrei confinati a questi container, poi, nel caso, ci espandiamo all'altra zona! No, ma secondo me conviene anche espanderci! Eh, per ora partiamo da questa, però! Sì, sì! Perché altrimenti non mi venivano tra sei mesi! Stiamo qua ad aspettare per i nicchiai a giugno! Ok, vai, prova ad andare! Vado, vado, vado! Sono relativamente soddisfatto, speriamo bene! Allora, non so neanche da dove iniziare! Allora, i tetti valgono le parti in alto, però no! Per ora ti dico che non sono in alto, dai, ti do questo indizio, così non ti metti a scalare! Eh, ci siamo dimenticati la minimappa, non guardarla! Non guardarla! No, io l'ho tolta! Ah, sono dimenticata solo io, allora! Mentre tu stavi parlando della discarica slash qualcos'altro, io ho levato la minimappa! E potetevi dirlo anche a me? Eh, vabbè, non ci volevo interrompere! Va bene, mentre continua a cercarmi! Sì, sì, io continuo a cercare! Ok, perfetto! Che poi ti posso guardare un pochettino dalla minimappa, così vediamo anche dove si trova Ferinichi! Vabbè, tu in effetti lo puoi guardare, io no, ma tu sì! Noi stiamo facendo in questa zona qua Ferinichi, che è già andata oltre, dove io mi stavo nascondendo! Oh, benissimo! E guardate quanto è gigante! Cioè, qua bisogna... No, guarda, io ti dico... Bisogna farci dieci episodi! Che, anche se lo utilizziamo tutto oggi, ti direi che bisogna farci qualche altro episodio, sì! Va rifatto, va rifatto! Vedi? Mancano 45 secondi! No, non lo so! Dai, su che mi trovi! Non è così bello il mio nascondiglio! Ma è impossibile sto posto! Ma no, fidati! Mi puoi trovare! Mi sto deprimendo! Non ti devi deprimere! Sì, ma è qui dentro, no! Applicati un po' meglio! Sono pronta? Sì, mi sto finendo di pulirmi le mani con la mucchina! Ma ti sembra il modo, il momento, il modo di fare queste cose! Quando si cerca di una discarica è pieno di batteri, quindi un attimo che finisco di pulirmi le mani! Non fai ridere con queste battute! Certo che faccio ridere! Ce la devi smettere, ti devono sopprire! Avviato il tempo! Stai facendo via la tristezza tu! Allora, penso a non essere trovata in dieci secondi stavolta, ok? Ma io faccio sempre dei nascondigli bellissimi! Lo dicono tutti! Io non ho ancora mai letto un commento che c'è Ferreni che è brava a nascondersi! Io li ho letti! Sinceramente non ne ho mai visto uno! Io invece li ho letti, quindi smettila! E ma guardi, ti riscrivi da sola con gli account di Google senza immagini che si chiamano! Bob aggiusta tutto, capito? Ho la fanbase più bella di te! Ho i consolini fanbase più bella di te! Quindi sanno che i miei nascondigli sono eccellenti! Io controllo anche il mio stesso nascondiglio perché sei una vigliaca e potresti fare anche queste cose! Allora, io ho notato che qua c'è un nascondiglio interessante, quindi ti ci vedo bene! Mettiamo la mazza da golf per essere belli pronti! Sicuro! Ah, è vero che poi dobbiamo pure pestarci! Eh sì! Dimenticavo che qua ci possiamo pestare, non è G-Wod! Ci possiamo pestare, sì sì sì, è vero! Quanto è passato? Due minuti e venti! Ma quanto abbiamo? Scusami, sempre cinque? Cinque! Dovremmo fare a dieci per quanto è gratuito il posto! No! No, vabbè sto scherzando! Secondo me riesco a trovarti qui dietro! Sei qua per forza! Sei qua per forza! Ciao bella! Ma dove vai? Ma dai ma quanto parkour mi stai facendo? Dove ho fatto? Dai, sono disgraziato! Era bello, era bello, era bello! Vero che era bellissimo però! Io come l'ho visto ho detto no dai è bellissimo! Sapevo che era un po' visibile se passi dall'alto ma era davvero super bello! Cercando di fare parkour in tutti i modi possibili! Sì era tanto, era tanto! Però, sai, non c'era bisogno! Ma quanto ti ho steso! Inizia un duello! Ti ho massacrato la faccia! Inizia un duello! Ti spacco la faccia! Non era giusto questo! Comunque era molto figo il nascondiglio! Quindi appena ho visto ho fatto sì e la per forza! No, no era bello sì! Dietro tutte quelle cose alla fine non era così tanto visibile! Figo figo figo! Nascosto! Nascosto! Sì no dammi un attimino perché mi ha fatto spawnare nel fiume dall'altra parte! Quindi sto cercando di rientrare nella mappa! Allora vi ho lo stesso timer via! Ma dai! Aspetta non sono neanche dalla parte giusta dei container! Devo scavalcare tutto! La zero! Ma dimmi te! Mh? Se devi fare queste cose! Ciao! Sai perché ho guardato? Mh mh! Perché prima ho pensato che sarebbe stato il mio prossimo nascondiglio! Mi ha mancato! Vieni qua! Non inizierai a correre come il tuo solito quando mi metto a parlare! Vieni qua! Ora devi riuscire a prendermi! La parte più difficile inizia adesso! Non era difficile trovarmi! Ho spaccato tutto coi piedi! Ovvio a dire! Era acchiapparmi! Vieni qua! Sono onorevole! Appunto! Fatti uccidere per una volta! Fatti uccidere! No! Mi sono metto incastrata! Dove stai? No dai! Che posto è? Ma dove stai andando? Mi ha fatto incastrare! Mi ha fatto incastrare in un'auto! Nascosto! Non mi posso più muovere! Cioè devi venire... Incastrata del tutto? Devi venire a uccidermi! Cioè non mi posso più muovere! Ma sei seria? Sì non sto scherzando! Ah no ce l'ho fatta! Finalmente! Finalmente! Dove sei andato? Tanto sei nel tetto! Dove sei? Scusa ho preso un buco! Non era previsto! Oddio è pieno di buchi! Mi ha fatto in matto! Dai! Allora! Smettila! Mi hai fatto anche incastrare e perdere un sacco di tempo! Aia! Ciao! Perché non carino altro di questi bei buchi Fede? Vieni qua! Fede! Guardate come va piano perché ha paura! Guardate come va piano! Mi sparo e mi stai facendo perdere la pazzetta! Guardatela! Ti sparo! Prendo la pistola e ti sparo! Ti ho visto a gambe in aria! Cioè vabbè vabbè! Scappo! Indescrivibile questa cosa! Indescrivibile! Dove sei finito? Bobo! Dai vieni qua! Non vengo a farmi uccidere da te! Sei noioso! Perché hai fatto tutto questo? Ammazzarsi su GTA e ammazzarsi! Quindi accettalo! Mancherò 50 secondi cara! Solo 50 secondi! Ma che hai vinto lo stesso? Perché mi hai fatto perdere un sacco di tempo! Quindi ho vinto! Sei tu che ti sei incastrata! Uh! Vedo attraverso un tubo! Il tempo è finito! Sì ma ti ammazzo lo stesso! No! No 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 no! Fere! 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 Meriti! Con un calcio! Ma con un calcio non mi puoi uccidere! Era l'uccisione più tamarra che potesti fare! Con un calcio piazzato nella schiena! Guarda così impari! E mi hai dato anche 7000! Grazie! Ma disgraziata! Per la tua taglia! Ma come ti permetti? Fatto! Ok! Avvio! Allora! Non so se è un bel nascondiglio! Non sta diventando notte! L'ultimo round sarà di notte! Allora allora allora! Sei sicura di essere nella zona giusta? Sì! Ok! Credo! Però sì! Più sì che no però non lo so! Cioè dove l'hai trovato? E poi era in giro! Addirittura avevamo veicoli prendibili! Non li avevo neanche visti! Dove sei qua nella spazzatura? A casa tua? No è casa tua ricordata! È casa tua! Io uso la mucchina per le mani! Quindi sei tu quella sporca qua! Manca un minutino! No! Sì sì ti dico anche un piccolo indizio! Ok! Addirittura pensi di esserti nascosta così bene? No però dai siccome dopo un po' vanno detti! Anche tu mi dici! Allora non ti dico in che momento però mi sei passato di fronte! Totalmente! Infatti ho sudato tipo freddo! Ho avuto tantissima paura e non mi hai visto! Quindi ti dico già una cosa che comunque ci sei passato in quella zona! È l'indizio peggiore che mi puoi dare! Perché così mi viene da ricontrollare tutto! Eh esatto! Così perdi ancora più tempo io ho vinto! Allora io ero qua! E tu sei passato lì anche contro la te non mi hai visto! Mi sono messa qua! Esattamente dietro la porta! Così! E tu sei passato qua! Hai guardato anche dall'altra parte ma non mi hai visto! Ho avuto troppa paura che mi vedessi! Però ero lì! E' controllato anche da dietro perché anche da dietro ho perso! E io gli ho pensato no quando va dietro mi vede per forza perché sono dalla parte opposta! Guarda! Non si vede? Guarda no! Oh figo! Non l'avevo notato questo! Bello però dai mi sono divertito! Allora vattene via che così mi nascondo! Sì vado all'inizio! Vada pure! Ed è notte! Ed è notte! E io non ho la torcia! Non mi troverai mai! Di notte non hai chance! Proprio adesso io posso anche mettermi a pisolare! Posso andare a pranzo! Che è decisamente ora dato che sono le due! E ho fame! Che tanto poi torno sono passati 25 minuti e ancora non mi hai trovato! Sei troppo sicura di te! Lo so! Le persone troppo sicure di sé non finiscono mai bene! Non finiscono mai bene dici? E le persone poco sicure che esplodono con una granata? Se sei abbastanza in alto io salgo in alto per trovarti e tu stai panicando! Ok no 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 è una buona idea! Mi sembra giusta come tattica l'ho utilizzata diverse volte ma secondo me non funziona! Allora voglio andare qua! No fammi andare qua! Voglio scendere qua! Che problemi stai avendo? Voglio scendere qua! Ok! Allora che poi stai ridendo quindi mi vedi! Cavola! Sono in zona! Sono in zona! Sei qui da qualche parte! Non mi puoi cadere a pesce davanti! Allora quindi sei sopra questi container! Salgo da questa parte! Allora c'è un problema! Se tu sei in alto allora vale guardare in alto! Ti ho visto adesso! Ne hai visto? Dietro quelle travi! Si vedono solo le sole delle tue scarpe che sono bianche! Si vedono totalmente! Scendi Joe dai! Non scendo! È stato abbastanza! Cara! Perché tanto quando faccio la fatica c'è per salire qua tu ti butti! Esatto! Esatto! Infatti questi sono nascondigli buoni ma che poi mi permettono anche di scappare a differenza dei tuoi nascondigli brutti! Non mi puoi far crollare il container! Anche se ci provi! No Ferre non scende! Allora però sono valide! Le granate! No! Io inizio a tirare! Ferre! Finché non scendi! Ferre! Ferre! Dai era bruttino sto nascondiglio! Potevi fare di meglio! Mi dispiace Ferre! Ferre mi è terrato! Ferre ma ti sembra? La giusta punizione perché alle suole delle scarpe bianche si vede lontano un figlio guarda! Se non avessi riso per la tua caduta a pesce non mi avessi trovato! Sì perché lì io non ho detto niente quando sono caduta! Io stavo dicendo solo voglio andare qua voglio andare qua! Quindi ho detto cioè se ti sei messo a ridere sai che sono caduta quindi mi vedi! E vabbè ma è! Per forza dove vi estivi davanti! Era impossibile non ridere! Avviato! Andiamo! Grazie! Capito insultandomi non mi hai trovato un sacco di volte! Sei a prova di torcia? Guardate quanto si vede bene con le torce ragazzi! Guardate come si vede bene! Sinceramente non lo so! Dai Ferre esci fuori che devo andare a mangiare ho fame! Eh anch'io ho tanta fame! Allora esci fuori e finiamola qua! Ritirati e può essere un finale decente per te! Da brava che andiamo a pranzo mangiamo qualcosa di buono su forza! Tutto più difficile! Eh sì! Tutto più difficile! Purtroppo sì! Soprattutto quando trovi Ferre Niki senza neanche usare la luce! Allora esci da sola dall'angolo o vengo a prenderti? La vedi la luce Ferre? La luce di chi ti pesterà malamente? No ti ho mancato! Ferre? Era un bellissimo nascondiglio senza torcia non mi avresti mai trovato! No non avevo la torcia! Stavo correndo senza torcia! L'ho vista tutto il tempo la torcia! Adesso guarda ti riguarda nel video ti obbligo a guardarlo tutto e dirai non è vero non avevi la torcia! Lo so! Non è vero non li guardi tutti perché sei un disgraziato! Ferre prima o poi ti stanchi quindi cerca di arrenderti! Ferre non ci vai! No dai non vale! Ferre non vale! Ti devo bucare le ruote! Non ti provare! Io me ne vado e ti lascio qui! Non mi hai mai detto che non vale prendere un carro! Un carro dell'immunità! No dove sta fuori? Ferre! Ma aiutami! Ma te le ho bucate le ruote? Sì non riesco più a girare! E mi sto incastrando! Ferre! Ti ho quasi nel mirino? Ti ho quasi? Facciamo in pace! Basta che sbagli la prossima curva e sei morta! Vattene! Dai! Non ti vuole nessuno! Vattene! No bellissimo questo tripling! Sta migliorando signori! Sta migliorando! No! Non mi puoi sparare! Non è valido! Non è valido! Faccio il duello! E adesso sfidami uno a uno! Non ti conviene! Ho il duello e ti ammazzo! Perderete anche il duello! Disgraziato! Disgraziato! Ai ai ai! È sempre bello il nascondino su GTA! Ma è bellissimo! Questa mappa è particolarmente mi è piaciuta un sacco! E abbiamo tutta l'altra parte! Abbiamo tutta l'altra parte da fare! Quindi sicuramente altro episodio su questo si farà! Adesso non so se sarà quello dopo ovviamente! Ma lo riproporremo! Però lo rifaremo perché è davvero bellissimo! Cioè è dall'altra parte! Io l'avevo già esplorata! Ok! Ci sono una miriade di nascondigli ancora diversi! Quindi è bellissimo! Mi fa male le guance perché ho riso troppo! Troppo! Troppo ridere! Allora dai ci fermiamo così per questo video! Speriamo che vi sia piaciuto! Nel caso lasciateci tanti like! Adesso fateci sapere commenti e sondaggino se vi è piaciuta questa zona e se ne volete vedere altre volte! E ovviamente se volete ne potete proporre! Esatto! Nei commenti cercate di proporci delle zone che secondo voi potrebbero essere interessanti che non abbiamo mai fatto! E andremo a visitarle! Se è difficile da spiegare di nuovo screenshot su Instagram! Perché anche quello fa sempre comodo perché magari iscritto in un commento è difficile spiegare la zona! Quindi ci fermiamo così per questo video! Sta arrivando la polizia! Ah si ce l'hanno con me! Siete sicuri? Poliziotico! Mi sembra giusto dopo che mi hai sparato in modo sleale! Adesso non si può più neanche giocare a nascondino! No mi hai sparato in modo sleale! Adesso ti li becchi così pari! Comunque ci fermiamo così per questo video! Ci vediamo domani con un nuovo video! E a macchia tutti! Bene ragazze! Se così siete giusto! Scieteci un bel like! E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerare di dare iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Autore dei sorrisi